striscia la notizia non ci va mai per il sottile quando si tratta di fare sati e politica stavolta il tg satirico di canale 5 ideato da antonio ricci e condotto dall'inedita coppia formata da vanessa incontrada e alessandro siani affidato a dario ballantini il compito di imitare matteo salvini tra gli esiti non esaltanti delle amministrative il caso morisi e la fronda interna sono tanti i problemi che assillano il segretario leghista ha dichiarato siani lanciando il servizio amici eccomi qua esordito ballantini salvini come sapete e vedere sono uno che ci mette sempre la faccia dopo la batosta delle elezioni se però qualcuno volesse metterci la sua poi lo scenario cambia con l'imitatore che si ritrova davanti a un citofono a riproporre l'ormai celebre momento vissuto dal leader leghista a bologna in questa casa spacciate è la domanda che trova come risposta un no sei tu che dopo le elezioni sei spacciato infine striscia la notizia ha fatto satira su salvini e il suo ultimo incontro con mario draghi avvenuto dopo lo strappo della lega sulla delega fiscale sono riuscito a convincerlo a mettermi tutto per iscritto pane latte ma niente tasse è quello che volevo